ciao amici sono Liliana Jaramillo in questo video vedremo come fare dei biscotti con le proteine whey o senza proteine una ricetta buonissima facilissima che si fa in solo 5 minuti e possiamo usarla come spuntino o anche prima dell'allenamento accompagnatemi in questo video gli ingredienti che usaremo per questa ricetta sono una banana madura le proteine in polvere se voi non usate le proteine potete usare la farina di mandorla burro di aracidi fatto in casa questo lo fatto io trovate il video di come farlo due uova cacao può essere amaro o dolce tagliamo la banana pezzettini e la schiacciamo con una forchetta facendo una specie di purea aggiungiamo le due uova e giriamo bene aggiungiamo anche due cucchiai pieni di burro di aracchidi questo l'ho fatto io voi trovate nel mio canale una ricetta facilissima per fare questo burro di aracchidi e mischiamo gli ingredienti dopo usaremo 4 cucchiai pieni del misurino che viene nella confezione delle proteine si vuoi non usate le proteine potete usare 4 cucchiai pieni di farina di mandorla e 2 cucchiai di cacao può essere amaro o dolce a me come non piace quello amaro ho usato in questo caso quello dolce dopo di girare bene mettiamo tutti gli ingredienti su un recipiente che avrà la carta forno e mettiamo al forno per 15 minuti prendiamo le formine che vogliamo e tagliamo i nostri biscotti eccoli qui i nostri biscotti proteici che possiamo usare come spuntino durante la giornata colazione o come vogliamo per oggi è tutto amici se vi è piaciuto questo video datemi un bel pollice in iscrivetevi al canale condividete il video e vi ricordo che tutti i miei libri ci sono nelle librerie anche online vi ricordo anche di lasciare il campanellino acceso così ogni volta che carico un video potete vedere tutte le notifiche ci vediamo alla prossima adios amigos